Proprio questa distanza, misurata dalla crisi economica e finanziaria con 3 milioni di disoccupati e il 35,3% dei giovani senza lavoro, infedisce il rischio di una celebrazione linguale. Ci aspetti qui il bisogno di un progetto e di una speranza ritrovati, di raccoglierci intorno a un'edica di cittadinanza che diventi un riferimento comune perché è capace di opporsi al crescere di disuguaglianze ormai insopportabili. C'è un bisogno di riferimenti, di maestri credibili, di certezze sulle quali fondare la speranza di un futuro per tutti. Questo bisogno ha le sue radici nella lotta di liberazione. Si tratta di una domanda ancora una volta rivolta alla politica, anche se troppe volte questa politica appare agli occhi dei nostri concittadini non più soltanto una cosa sporca, ma addirittura una cosa inutile. E tuttavia è alla politica e questo è l'insegnamento della resistenza che viene chiesto di occuparsi di situazioni apparentemente impossibili.